Alla ricerca dell'equilibrio, non semplice, è un tamagogi la ricerca dell'equilibrio, è un quotidiano. Abbiamo fatto un grande sforzo oggi di ritrovare questo equilibrio, non solo personale, perché oggi siamo un gruppo, tutti insieme, di ritrovare una condizione di equilibrio. E in questa, chiamiamola, celebrazione di Selfood, parto da 16 anni fa, dal primo rudimentale, primordiale schema che la passione di Giorgio Terziani, l'entusiasmo di contattare in giro per l'Italia tante persone, ci fece tirar fuori. Io ho il privilegio di essere maggiorenne nell'amicizia con Giorgio Terziani e nella conoscenza e prescrizione di Selfood, sono 18 anni. E come vedete ci sono tanti aspetti che oggi conosciamo. Io ricordo, alla fine erano gli anni 2006-2007, quando la professoressa Ferrero ci ha illustrato oggi dei risultati sull'Eucar, sul test di Carratelli, sul di Roms, anche Serena Benedetti nel suo lavoro l'ha citato. Vi dico che non fu semplice neanche allora sostenere quella che era un'intuizione geniale di Mauro Carratelli. E quindi mi riallaccio alle parole dell'amico Mauro Miceli, ma anche di Sergio Stagnaro, che come diceva Papa Wojtyla, non aver paura di aver coraggio quando sei convinto di essere su una strada giusta, è sottinteso colleghi, di rigore scientifico, ma ancora ce lo diciamo, chi non ha un rigore scientifico non fa parte di questo cerchio. Quindi con rigore scientifico però, grazie a Serena, a Maria Elena, a tutti quelli che ricercano e sfidano, perché altrimenti rimarremmo tutti sempre nella stessa situazione. Quindi oggi poi sappiamo che tutte queste condizioni ci portano a degli squilibri da compensare in continuazione. E allora si intrecciano i destini e le strade di Giorgio che probabilmente ha un suo karma per il benessere degli altri. Dopo Selfood, lui, qualche anno fa, ha incontrato questo strumento e ce l'ha proposto proprio per capire la condizione. Come molti altri test, anche più celebrati, ematochimici, non sono un assoluto, ma sono un'evidenza e quindi una condizione che magari per chi ha studiato semiotica medica, ahimè, purtroppo per fortuna, ma il mio Dio Guardi Sanna, il mio prof, non era un esame banale alla Sapienza di Roma, semiotica medica, era molto esigente. E noi un po' sbuffavamo, così la biochimica. Oggi invece, dopo 28 anni di esperienza, vi dico che quei libri sono i più a portata di mano. Chi ha avuto quegli insegnamenti ancora tira fuori la lingua a un paziente, gli tassa l'intestino, anche se sei medico, angiologo, mangiologo e chissà lì magari viene a farsi un Doppler agli arti inferiori. Però è importante concepire e condividere quello che il paziente prova per immedesimarsi e mettere a disposizione le proprie conoscenze. Quindi oggi possiamo sapere con questo test quello che comporta, quello che poi io vado a vedere, io lo chiamo, anch'io, come l'Oresta Teresa Ferrero, sono 25 anni che ho fatto le nozze d'argento con la terapia chelante. I risultati sono veramente importanti con quello che io chiamo il test di San Tommaso. Le urine prima, la mattina, dopo il primo fiotto. Si fa questa flebo di due ore con il DTA, un cocktail di sostanze che stabilizzano il tutto e poi si fa la raccolta nelle 24 ore. Si fa una cosa semplicissima che mi fa dialogare con tutti e anche confrontarci. Vedere il prima e il dopo, quello che è successo. E quindi questa condizione sui metalli tossici è tangibile, ma su altre sostanze ce ne accorgiamo solo quando è troppo tardi. Purtroppo a volte in sala autoptica, piccolo spazio pubblicità, quinto decesso negli Stati Uniti per lo svapo, per il fumo di sigaretta elettronica. A mio avviso in onestà scientifica vi dico due cose, una pro e una contro. Una pro che sicuramente, o contro a seconda di come la pensiamo, una pro che la sigaretta elettronica ha meno sostanze tossiche della sigaretta canonica, ma aumenta lo stress ossidativo in maniera imbarazzante. Però c'è anche da dire che questi decessi che sto seguendo, ieri sera il quinto è stato annunciato, sono molto giovani. E quindi vorrei capire cosa hanno messo dentro. Ma qui c'è un vizio di forma, secondo me, preoccupante, al quale nessuno ha dato voce. Che queste sostanze e questi apparecchi sono di libera vendita. Quindi avendo figli adolescenti, io vedo che purtroppo spesso il primo approccio al vizio passa proprio per questo passaggio. Quindi pensiamoci un po' tutti. Le radiazioni, questo test è incredibile per come può individuarle e darci degli indirizzi. È ovvio che nella semiotica medica, nel tenere la mano e il polso alla persona mentre la visiti, chiedi se lavora al computer, quante ore, con i report che oggi i nostri aggeggi ci danno, ci dicono quante ore al giorno siamo in contatto col telefonino e tante altre fonti di radiazioni, a volte non previste e non prevedibili. E allora pay attention, non sto facendo previsioni o terrorismo medico, ma sto indirizzando tutti a un principio di cautela che ci deve connotare. Io vi do i numeri che ci danno i fisici, che il 5G sarà dalle 100 alle 1000 volte più veloce al 4G, questa è la pubblicità. E quindi dovremmo festeggiare tutti, no? Di avere lo streaming in maniera immediata. Le chiamano migrantenne, migrantenne che verranno installate e produrranno campi elettromagnetici di conferenza fino ad ora mai conosciute. Quindi, principio di cautela, eventuali e possibili rischi per l'uomo. Non a caso negli Stati Uniti diverse città hanno rifiutato la sperimentazione, questo sta avvenendo anche in Europa. Io direi di darci questo, proprio su un termine tecnico, darci tutti un principio di cautela. Prima che sia troppo tardi, perché poi, lo sappiamo da tempo, tra le fronti di ROS e di sostanze reattive dell'ossigeno, le radiazioni ionizzanti sono fra le prime a determinare condizioni sfavorevoli. E giù di lì, stress emotivo, fumo di sigaretta, alcol, droghe, lesioni di riperfusione, l'amianto, la biologica eccezionale, il diabete non controllato, alcuni additivi, l'inquinamento, i metalli tossici, lo stress psico-fisico prolungato. E quindi, come compensiamo? Con l'utilizzo di antiossidanti, che soprattutto troviamo negli alimenti, e con una vita, tra virgolette, naturale, stando più possibile all'aria aperta, a contatto con la natura, con tanti benefici, perché l'ossidazione è quel processo naturale per cui l'ossigeno si combina con un'altra molecola, sottraendo elettroni, no? È un po' un pirata. La Yurveda Marisci lo chiamava uno squalo molecolare. Il pericolo sta che se non viene limitata questa condizione, che è vitale, non si può azzerarla, vai alla ricerca dell'equilibrio. Si propaga in maniera disordinata facendo danni. Il fenomeno dello stress ossidativo. E la nostra fisiologia è come una candela, una candela che brucia. La rapidità con la quale noi bruciamo dipende dalla quantità di antiossidanti presenti nel sangue e nei vari tessuti, alla ricerca dell'equilibrio. E quindi questo tiro alla fune, ma io poi parlerò di modulazione, va gestito, va sostenuto, va sollecitato, modulato il tutto. Quante gocce di self-food devo prendere se fumo 20 sigarette al giorno? No, non ci siamo. Il tutto, il ben essere, parte dalla conoscenza dei rischi e dall'evitamento, che è la cosa più difficile da fare, dei rischi. Io ormai da più di un anno sto provando a fare un evitamento da tutto quello che sono onde elettromagnetiche, perché poi mi sono testato anch'io, non fumi, non bevi, cerchi di stare in equilibrio, ma li cadi. E allora, ho capito per la prima volta, io stronzo, non fumatore, atipico, non tatuato, non orecchinato, e non fumavo le sigarette e le canne, 40 anni fa, quando avevo 16 anni. Quindi, chi sei? Perché chi sei? Perché non è che ero uno che stava a casa solo nel pianoforte, facevo il DJ in discoteca di fronte a mille persone, quindi ero proprio un'atipia. Ma come? Stai qui, ci fai divertì e tu non ti diverti con qualcosa che? E allora mi sono messo per la prima volta nei panni di un fumatore, perché get social, no? Selezionare, ridurre, sforzarsi di, soprattutto imporsi e imporre che quando si mangia a tavola con la propria famiglia, rincorrendo questo rito mediterraneo, il cum vivio, lo stare assieme, di tenerli lontani questi oggetti. Poi cose banali, schermare la camera da letto in tutto e per tutto. Quindi, questa condizione rischia di rompersi, a nostro svantaggio, ma come diceva Antonio De Curtis in arte totò, è la somma che fa il totale, e quindi attenzione che questa somma si organizzi. Soprattutto evitiamo quello che sappiamo ci inguaia. Quindi il danno poi da radicali liberi è il danno di membrana che va a colpire poi tutta la cellula con un'attivazione enzimatica a livello mitocondriale, la mutazione genetica a livello del DNA. E quindi tutta questa modificazione per sbilanciamento, perché perdiamo la risposta da dare per ottenere un equilibrio, ci porta alla patologia. E in questo, con il professor Rizzo, abbiamo studiato per anni, prima del terzo millennio, Anselaie e tutto quello che girava intorno allo stress, per capire proprio il metabolismo. Ma io ve lo voglio oggi portarvi il mio contributo, che non sono tutti cassetti o camere di hotel differenti. È una palestra. Tutte queste informazioni, se noi le riusciamo a collegare, è santa anagrafe, è santa esperienza, ci porta a cercare, come diceva Steve Jobs, di unire i puntini, ti dà delle letture importanti. Quindi le tre fasi, la reazione di allarme, oddio che succede? La resistenza, gli antiossidanti che forniamo, le good vibration che forniamo. Io, nel mio ultimo libro, Prospettiva Rossi, ho parlato tanto di energia, ma non sono né uno psicologo, né un prete, né un filosofo. Però ho un atteggiamento verso i pazienti, che sono stati loro i miei libri, per capire, ma con tuo marito va tutto bene? Hai conflitti? Cioè far domande, boom, sei felice? I pazienti ti guardano, questo che vuole, no? Mi hai fatto già tirare fuori la lingua, poi mi chiedi pure se sto felice, no? Piglia una pasticca e pensa a me, no? Purtroppo non è così. Per ambire a quello che ogni medico vorrebbe, la guarigione. E quindi evitare di andare nel danno di ossidazione, nella fase di assorimento, dove risposte non ne ho. E allora, vedete le condizioni, come sono il tau del ringiovanimento verso l'invecchiamento, le imperfezioni genetiche. Un quarto dei nostri danni dipende dal nostro DNA, ma come mi ha insegnato mamma Corsello, la mia maestra americana, tre quarti, è una bella porzione di torta. E quindi cerchiamo di capire come rispondere a negatività all'inazione con positività e spiritualità. Un malsano stile di vita adottando buone abitudini, evitando le tossine, scaricandole. Viva la terapia chelante, ma non quando è la sclerosi multipla. Già 40 anni, fatti un test, valuta quanto alluminio butti. Gestire l'emunzione degli organi, scaricare il prezioso intervento che può fare il solfato adenosine, metionina, nel favorire lo scarico tossico del fedelo. Aumentare l'immunità, ma questo si fa anche frequentando di più i nostri figli. E riportare un equilibrio ormonale, soprattutto nella donna. Tutto questo, tradotto in cellulese, in cellularese, è quello che avviene negli scambi cellulari. Cellula A, cellula B, è un momento di incontro, di scambio, reciproco. Dove, 2008, eravamo in questo assise, a casa di Giorgio Terziani, il titolo della mia relazione, il glicocalice. Punto, là, dove osa selfhood. Ho i brividi, ho i brividi perché ho avuto il coraggio di dirlo e lì, se mi fossi confrontato con qualche solone, mi avrebbe detto, lascia perdere, no? Il quantum, oggi grazie a Dio abbiamo tanto quantum. E allora, Giorgio Terziani in primis, ecco il dottor Mariani che va aspettato e non vi deludo, allacciate le cinture di sicurezza. Perché? Perché stiamo per fare un viaggio nel tempo. Pronto, Giorgio? Vai! Entriamo nella macchina nel tempo. Boom! Siamo nel 2005. Io sono uguale, Giorgio Terziani, purtroppo, vedete. Però fa 85.000 km l'anno in macchina lui, eh. Belli come allora. Pass. Un pass per il benessere. Che è sta roba? Combattere una condizione di acidosi. Io nel mio libro, dedicato alle donne, l'ho chiamato Acidonna. Nulla a che vedere col vostro carattere, eh. Assolutamente. Ma su una condizione con la quale voi, cinque volte più di noi combattete. Sono partito da uno studio scientifico del 2014, che dice che quattro sigarette per le donne hanno un fattore di rischio equivalente a 20 sigarette per un uomo. Capito? Attenzione a tutte queste situazioni, perché poi si revertono su tutti gli ambiti. E quindi, questa acidosi tessutale genera tante condizioni negative. Stati infiammatori, drotta funzionalità, ipofunzione, carenza. Le conoscete tutti. Però attenzione, da questa condizione, aio acidifichi, infiammi, ossidi. Ecco dove arriviamo ai preziosi studi. Di Franco e Serena. Perché poi vengono malattie. Ecco lo studio dell'Abbamonti sull'osteoporosi. Dopo, gestiamo prima, ma non soltanto rinforzando l'ossa, ma facendosi che sia un concerto e non un battito di lattine. E allora, il viaggio nel tempo è in quella relazione. Io vi ho riportato le mie arcaiche diapositive, non lucidando medaglie, ma dicendovi oggi, con ferma convinzione e certezza scientifica, che la strada è stata giusta. Noi ci abbiamo creduto, forse è l'unico merito di tanti volti qui presenti, che abbiamo inseguito questo discorso. L'importanza della vitamina O, perché, attenzione, quando il segnale diventa suono, il suono diventa allarme, l'allarme diventa sirena. Dopo si corre con l'ambulanza, quando l'allarme diventa sirena. Invece dobbiamo essere bravi tutti a far cosa, con diritto pieno, iniziare a fare le cose che ci piacciono. Nella leicità, ovviamente. Però, vi dico l'esperienza personale. Tre settimane agognate di vacanze, decise, insieme, condivise con la mia famiglia, di alzare i remi, di fare tre settimane. Ho il privilegio di vivere a 40 km da casa, da Ascoli Piceno, in uno dei posti più belli dell'Ariati, cosa ammetto del tronto, quindi non è che sono stato in un posto X. Vi dico questo, perché la mia scelta, quest'anno, per la prima volta, in vita mia, è stata quella di fare tre settimane fermo a San Benedetto, in spiaggia, facendo concorrenza al bagnino, arrivando prima e andandomi dopo, vedendo tante albe e tanti tramonti alle mie spalle, perché siamo ad est, e rigenerarsi. E quindi, ho voluto mettere in atto tutto quello che consiglio ai miei pazienti, ma che poi siamo i primi a non fare. e quindi rigenerarsi. E questa è sempre la mia relazione del 2005, è agli atti, è così, arcaica, e cos'era St-TR che vi proponevo? Quest'infiammazione transitoria reversibile, era un qualcosa che innescava stress ossidativo, attenzione, facciamo l'analisi grammaticale e poi logica, infiammazione, mmm, ci piace, fiamme, transitoria, irreversibile, se, solo se, soltanto se, compensi. Ecco dove è fondamentale l'azione di un qualcosa che vada ad ossigenare la cellula. Prima di capire e agire ed evitare, questo è un termine che vorrei, un termine solo, portatevi a casa, al di là di tutte le belle cose che vi diranno, da parte del Dottor Mariani, riportatevi il termine evitare, ma non quello che ci fa malare, quello che ci acidosica, che genera l'infiammazione e la malattia, perché lì puoi, quando cominci a sentire, capire quei segnali, intervenire in maniera efficace. E quindi, il ruolo di Selfood è proprio quello, di pulire questa interferenza che va a bloccare il glicocalice, ma in questo riesci se la condizione non si va ad ossidare, quindi a definire e a creare un danno. E quindi, l'azione del Selfood, come i lavori presentati da i ricercatori che mi hanno preceduto, nutre, disintossica le cellule, incrementa i livelli di energia, la respirazione cellulare, migliora la resistenza, rinforza il sistema immunitario, riduce lo stress ossidativo, eliminando i rossi in eccesso, e reverte l'infiammazione transitoria reversibile. E allora, con grande orgoglio, in tante, tante situazioni di confronto, non vi dico quante, bellissimo, perché Giorgio, al di là della sua passione, della sua preparazione, ho il dovere di dirgli, e oggi che festeggia vent'anni di Selfood, è una persona intelligente. E come diceva Einstein, una persona intelligente, un problema, lo evita. E quindi, sono l'uomo degli acronimi, chi mi conosce sa benissimo, 4D, 3M, tip, tap, ora, metodo, lo leggerete in me to do, fare qualcosa per se stessi, è importante questo segnale, è questo, il mio anno scolastico, 2019-2020, me to do, proporre qualcosa che fa bene a se stesso, pool, i suoi enzimi, i suoi aminoacidi, i suoi minerali, le sue vitamine, antiossidante, che però è sinergico e sistemico, questa è la lettura medica e non biochimica di ricerca che vi porgo. Tutto questo eravamo nel 2005, alla sala sinfonia, e questo, ribadisco, è motivo di orgoglio per averci indovinato, perché potevamo essere qui oggi a parlare di tutt'altro, no? E quindi, ripeto, tutto questo è stato assolutamente sostenuto da tanti puzzle fisici, chimici, biochimici, medici, e qui c'è una mia carissima amica, una persona molto cara a me, che ha capito sulla sua pelle cosa è la sensibilità chimica multipla, abbiamo parlato sempre molto e di tante cose, però forse non sa che il suo dottore già nel 2005 parlava di ipossia, condizione che portava alla sindrome chimica multipla, e quali possibili terapie, ricorciamoci le maniche, cosa dobbiamo fare? E questa era un'immagine di allora, stiamo nel 2005, sono io che esco di casa, ciao Roberta vado al lavoro, perché quando esci fuori casa è così, ma non Milano che tanto quanto Tokyo è a livelli allarmanti, anche Disneyland, così io chiamo la mia città, scolipiceno, non è scevra da queste condizioni, se non c'è un sindaco illuminato che chiude il traffico al cielo, se non c'è un riscaldamento viene gestito da tutti quei fattori che poi scopriamo quando, quando ci ammaliamo che ci hanno fatto male. E allora, ecco io sono in viaggio da Ascoli a Bologna, slide arcaica del 2005, l'ipossia, una condizione in cui si trova una cellula che non ha un adeguato apporto di ossigeno, ipoxia, e allora io nel mio libro quattro anni fa, dopo 25 anni ho messo nero su bianco, questa voglia d'aria, come contrastare lo sguardo languido, la bocca simmetrica che Gell Percival alla fine dell'Ottocento definiva la condizione di possia. Chi? Edgar Allan Poe. Perché? Perché scriveva di notte e aveva le sue alleciunezioni che gli ha portato tanto frutto letterario, di notte non aveva la luce con la lampada che emanava monossido di carbonio e quindi queste condizioni oggi noi le viviamo con tutti questi campi elettromagnetici e tutti questi altri fattori di rischio nel 2020. E allora il self-food ha questo privilegio che ci dà una botta di vita, una risposta, però anche qui incredibile la sua modulazione in tempi in cui on demand oggi lo sapete tutti che significa? Vi dice uno che fa da 12 anni televisione che televisione non la vede più nessuno. Vedono tutti i replay replay mediaset play cioè oggi si vede in base a quello che vuoi. I miei figli non sanno neanche un programma televisivo vedono le serie su Netflix e quant'altro. Quindi oggi c'è un'ottonimizzazione del tempo non male e quindi on demand lo capite tutti non potete dirmi no che stai a dire perché self-food è oxygen on demand e quindi tu scegli quanto come e perché ossigenarti poi se c'è un medico che invece delle 8-8-8 gocce te ne dà 6 o te ne dà 40-40-40 la strada è quella giusta perché c'è qualcuno che ti consiglia cum insieme dare il giusto al momento giusto e quindi questa era la conclusione del 2005 ma la riporto qui a tutti noi in onore di chi sta combattendo un'altra sfida dopo le mille che ha fatto nella sua vita questa la dedico con tutto il cuore e tutte le mie energie e le vostre a Sergio è quello che sappiamo già ad impedirci di imparare io ringrazio Giorgio perché mi ha dato sempre mille stimoli mille confronti soprattutto quando con quel collega non c'era unità di visioni ma lui diceva no incontriamoci parliamo vediamo tutto questo come recita nella mia città un portale non è facile e non è senza fatica però mai come adesso questo finale che vi sto per dare ha un senso assoluto ed è inevitabile la dedica per questo leone che sta combattendo mannaggia c'è scritto che non compare per incompatibilità di computer buona prospettiva rosea a tutti prospettiva non aspettativa non vi aspettate niente ma non dagli altri da voi stessi progettate prospettate mirate un obiettivo e tutti insieme lo raggiungeremo grazie grazie Mario